Era una rotta importantissima a mettere in comunicazione sia la costa con le regioni appenniniche dell'Italia, quindi ponendosi a controllo di questo guado i romani pian piano si arricchirono tramite la costruzione di questo ponte che consentiva appunto il passaggio di persone e di merci. Perché è importante il ponte? Il ponte che non si vede ancora è che la città però non era stata fondata, cioè nel senso del film abbiamo il momento della fondazione, ma per esempio il termine pontefice, che vuol dire? Costruttore di ponte. Ecco, costruttore di ponte, giusto? Nel senso che l'importanza del pontefice qual è? Adesso naturalmente viene utilizzato anche per definire il Papa, ma era la massima autorità religiosa perché oltre ad essere il sacerdote più importante era anche colui che sapeva come costruire questo ponte quindi era l'unico che deteneva il sapere ingegneristico per costruire il ponte che era fondamentale per lo sviluppo e la prosperità di questo piccolo abitato, villaggio di pastori che poi governerà il mondo antico, tra virgolette. Quindi ecco la importanza del pontefice, il costruttore di ponti, l'ingegnere in poche parole.